Abbiamo un elisoccorso a fianco all'ospedale di Pescara, non agibile, non funzionale, perché è stato fatto un appalto poco tempo fa, non ha acquistato un mezzo troppo pesante che non può atterrare su quella superficie e quindi l'elicottero è costretto a prelevare il paziente gravissimo, politraumatizzato, portarlo all'aeroporto di Pescara, caricarlo su un'autoambulanza, un'autoambulanza costretta ad attraversare il traffico cittadino, i cantieri, i semaferi, quindi immaginate quanto tempo può passare per poi raggiungere il pronto soccorso. Ecco, questa è una cosa gravissima, a mio avviso. Se c'è qualcuno che ha fatto una gara d'appalto, dimenticando il peso e la portata di quella superficie, è quel qualcuno deve pagare. Uno, io voglio capire chi ha fatto questa gara d'appalto, dirigenti, funzionari, se ci sono responsabilità, la regione deve attivare dei procedimenti sanzionatori e disciplinari interni, perché basta, chi sbaglia deve assolutamente pagare, soprattutto se si tratta della vita delle persone. E poi chiediamo l'immediata messa in funzione di quelle lì soccorso, quelle lì porto, magari con sistemi di sicurezza, di messa a norma, ma qua pare che non parte nulla, non ci sono lavori, non parte nulla, quindi sta così, abbandonato. Stiamo pagando, perché l'ASA sta pagando un'associazione privata esterna che fa il trasporto con autoambulanza, questo è un problema tutto pescarese. Tra l'altro la regione Abruzzo, l'assessore Paolucci, ci aveva detto che nel depotenziamento e declassamento dei presidi sanitari di prossimità, e mi riferisco a Popoli, a Penne per la provincia di Pescara, si sarebbe incrementata e potenziata la rete emergenza urgenza. In questo modo si incrementa la rete emergenza urgenza con un elicottero che non può atterrare a fianco all'ospedale di Pescara, ma deve atterrare all'aeroporto. Beh, veramente sono indignato e schifato.